Si sono svolte le ultime audizioni della Commissione Consigliare Speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise, presieduta dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola. Diversi gli incontri programmati con i rappresentanti del mondo delle associazioni e con le istituzioni presenti sul territorio. È stato possibile approfondire i contorni di una tematica che in parte conoscevamo, ha detto Nola facendo il punto, ma che ci è stata resa ancora più chiara e puntuale dai fatti che ci sono stati rappresentati. Racconti di contesto e di singoli accadimenti che riguardano le delicate inchieste della magistratura in corso per reati ambientali e politico-amministrativi, episodi di usura, antiriciclaggio e spaccio di droga, continuato, che descrivono un quadro preoccupante del rischio che corre il Molise e di come esso debba saper operare in rete con le istituzioni preposte, il sistema economico-sociale, l'apparato della cultura e i singoli cittadini per proteggersi e preservarsi, consentendo ai tanti punti di forza dei vari territori di sviluppare l'intera regione con essa i suoi cittadini in uno spirito di comportamenti etici e di legalità. Nola ha evidenziato ancora come la commissione di studio molisana tramite lui ha potuto fornire il proprio contributo al coordinamento nazionale delle commissioni e osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della legalità. Nel livello centrale, ha detto ancora il portavoce dei 5 Stelle, abbiamo potuto dare il nostro contributo anche sulla base di quanto ha preso nel confronto svolto in commissione a tre importanti progetti di respiro nazionale, quello su interventi per la valorizzazione e riutilizzo di beni e aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il progetto liberi di scegliere e infine quello su modifiche integrazioni al codice dei contratti pubblici.